Ore di tensione nel carcere di Ariano Irpino, dove il personale di Polizia Penitenziaria ha sequestrato droga destinata ad un detenuto. A ricostruire i fatti la segretaria regionale per la campania del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria, nella tarda mattinata di ieri la madre di un detenuto ha fatto ingresso presso l'accettazione colloqui al carcere di Ariano Irpino al fine di poter effettuare un colloquio visivo con il figlio detenuto. Successivamente espletate le formalità di rito, nel corso di un'operazione di servizio finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze superfacenti organizzata dall'ispettore responsabile del reparto colloqui con il supporto delle unità cinofile di Benevento, la donna nella sala di attesa è stata segnalata al cane antidroga Susi. È stata sottoposta ad un accurato controllo da parte del personale femminile della Polizia Penitenziaria, il cui esito è stato positivo. La donna, messa alle strette dal personale femminile e dall'ispettore, ha estratto alle parti intime tre involucri a forma cilindrica, avvolti del cellofan trasparente contenente sostanza solida di colore marrone, risultata poi essere sostanza stupefacente del tipo hashish. Alla luce dei fatti, la donna è stata tratta in arresto. Ma non è questo l'unico evento critico accaduto e la struttura detentiva erpina. Sempre la mattinata di ieri, aggiunge la sindacalista, durante una perquisizione in una cella i detenuti sono barricati per impedire le operazioni. È stato necessario l'intervento con scudi e caschi per riportare l'ordine e la sicurezza. I detenuti in questione sono stati posti in isolamento. Perdonato Capice, segretario generale del Zappe, l'attuale allucinante situazione in la quale sono costretti a lavorare i poliziotti penitenziari è assurda e incredibile e merita urgenti provvedimenti da parte dei vertici del Ministero della Giustizia e del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, prevedendo di adottare adeguati provvedimenti per garantire la sicurezza e la stessa incolumità fisica degli agenti che lavorano in carcere sempre più spesso al centro di gravi, violente ed inaccettabili aggressioni.